buonasera a tutti prima di farvi vedere la video ricetta mamma voleva dirvi una cosa mi ha detto davide che siete stati in tantissimi a farmi gli auguri per il compleanno grazie a tutti e buona visione buonasera a tutti questa sera faremo una ricetta davvero davvero gustosa è molto semplice occorreranno solamente cipolla zucchine tonno dei tagliolini e un po di farina io sto usando la cipolla ma se preferite del cipollotto dello scalogno è ancora meglio essendo più delicato la prima cosa che farò è andare a tagliare la cipolla a julienne non la userà tutta perché questa è una dose per una persona mettiamola in padella e aggiungiamo un filo d'olio una volta tagliata la cipolla e messa in padella andiamo a prendere la zucchina io ho questo per la patate che fa la julienne andate a ricavare tutta la parte verde queste zucchine nel frattempo le metteremo nella farina una volta preparate le basi quindi cipolla e zucchine andiamo a tagliare il nostro tonno lo facciamo a bocconcini preparate tutte le nostre basi possiamo andare in cottura iniziamo facendo inviondire la nostra cipolla qui ho messo un padellino con un po di olio di semi che ci servirà per rendere le nostre zucchine croccanti ora andiamo ad aggiungere una parte di tonno una volta che il nostro tonno è colorato aggiungiamo un pizzichetto di sale qui sarebbe la morte sua un po di fumetto di pesce ma ora non lo ho quindi aggiungerò un goccio d'acqua calda un pizzico di pepe nero e andiamo a friggere nel frattempo le nostre zucchine una volta cotte le nostre zucchine le scoliamo su una carta assorbente larga in modo tale che freddandosi diventino ancora più croccanti e andiamo ad aggiungere un goccio d'aceto bianco sulle nostre zucchine come a ricordare la scapece scoliamo la pasta procediamo a mantecare aggiungiamo un goccetto d'acqua fredda che aiuterà a rilasciare più velocemente l'amido e stempererà la nostra padella e la nostra pasta prima avevo dimenticato di dirlo serve un po di pecorino romano andiamo ad aggiungere una parte delle zucchine all'interno della padella e mantechiamo ok abbassiamo il fuoco e andiamo aggiungere il nostro pecorino romano ok ci siamo vedete la nostra pasta bella cremosa procediamo ad impiattare facciamo scendere la nostra cremina questo come musica dopo aggiungiamo un po di pecorino romano chiudiamo con le nostre zucchine sopra una macinata di pepe e il gioco è fatto eccola qui lo chef Davide vi saluta e vi augura buona serata ciao